La ex cantante dei Gazzosa, Jessica Morlacchi, ha attaccato duramente Shaila Gatta per il suo comportamento nella casa del grande fratello. Durante la notte, Morlacchi ha accusato Gatta di aver usato termini omofobi nei confronti dei suoi coinquilini, tra cui Lorenzo Spolverato. Secondo Morlacchi, Gatta avrebbe fatto commenti offensivi su Javier e insinuato dubbi sulle preferenze sessuali di Lorenzo. Morlacchi ha rivelato a Luca Calvani che Gatta avrebbe definito se stessa con un termine volgare e avrebbe fatto insinuazioni su Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Le tensioni tra i concorrenti sono evidenti, con Gatta al centro delle polemiche per il suo comportamento discutibile. Le accuse di Morlacchi hanno scatenato un dibattito sulla condotta di Gatta all'interno della casa, mettendo in luce il clima difficile che si è creato tra i partecipanti al reality show. Le parole pesanti e offensive di Gatta hanno scosso gli altri concorrenti e hanno sollevato dubbi sulle sue reali intenzioni all'interno del programma. La situazione si è fatta sempre più tesa, con Morlacchi che ha deciso di denunciare pubblicamente il comportamento di Gatta. La polemica tra Morlacchi e Gatta sembra destinata a continuare, con il pubblico che segue con interesse gli sviluppi della vicenda. Resta da vedere come reagiranno gli altri concorrenti e se Gatta sarà chiamata a rispondere delle sue azioni.